L'accountability, intesa come responsabilità del vaglio e della comunicazione degli effetti delle proprie azioni, è un valore fondante dei progetti Cosme nel mondo. Cosme risponde a due tipologie di accountability, la cosiddetta upward accountability, ovvero l'accountability nei confronti dei donatori, dei finanziatori e dei contribuenti, e la cosiddetta downward accountability, ovvero l'accountability nei confronti delle necessità e delle aspettative dei beneficiari dei nostri interventi. A questo fine, dal 2017, Cosme ha strutturato un sistema di monitoraggio e valutazione interno, ispirato e integrando le linee guida di Link 2007 relativamente al monitoraggio e alla valutazione. Questo sistema permette di raccogliere dati sia qualitativi che quantitativi, che a loro volta aiutano Cosme ad analizzare i risultati ottenuti relativamente alle differenti strategie paese. In parole povere, perché è importante un sistema integrato di monitoraggio e valutazione interno al Cosme? Fondamentalmente per tre ragioni. La prima è che permette di ottenere, attraverso dei dati verificabili e non opinioni, informazioni fondamentali sull'effetto reale dei nostri interventi e delle nostre azioni nel paese in cui lavoriamo. In seconda, invece, è fondamentale per sviluppare buone pratiche, anche lì basate su dati empirici. In terza, invece, è molto importante, da un punto di vista strategico, per sviluppare e raccogliere informazioni fondamentali per strutturare poi determinati percorsi, i migliori possibili, per rispondere alle necessità dei beneficiari. Da un punto di vista tecnico, Cosme associa, così, alla reportistica tradizionale, anche una serie di report ad hoc, su base progettuale, che raccolgono informazioni, atte poi a confluire verso un report annuale di monitoraggio e valutazione. Il report annuale di valutazione Cosme va agli criteri di sostenibilità, rilevanza, efficacia ed efficienza, e a sua volta contribuisce all'analisi di impatto triennale, che invece produce indicazioni di indirizzo e strategiche per l'organizzazione.